cosa c'è adesso a far quella faccia lì? no niente sì lo so lo so lo so dopo tanti anni di viderci duro ma le nostre strade ormai si separano basta ma cosa hai capito io non pensavo a noi pensavo a qualcun altro e chi è? c'è Marco perché cos'è Marco? ma quella povera creatura abbandonata dalla zia prediletta però fai bene fai bene sì in fondo tu devi pensare a divertirti ma cosa te l'importa di quel povero bambino indifeso su abbandonato? mamma smettila mormora il bambino mentre gli pianta gli occhi al tuo piccolino non compri mai palocchi mamma tu compri soltanto profumi per te mamma mamma mamma